Guardiamo oltre l'autismo, è il progetto in corso d'attuazione presso l'Isis Giordano di Venafro, rivolto ad un ragazzo affetto da tale patologia, studente presso quella scuola, con l'obiettivo di favorirne l'inserimento e l'inclusione. Ma, in concreto, grazie ad una sinergia tra scuola, professionisti esterni ed ovviamente famiglia, il progetto si propone di aiutare il ragazzo a vivere nella maniera più adeguata possibile, comunicando i propri bisogni e relazionandosi agli altri. Non solo viene riproposto quest'anno, ma viene sviluppato con altre competenze e viene portato avanti con la professionalità dei ricercatori e dei professori dell'Università di Roma. Ecco perché noi stamattina abbiamo accolto e abbiamo qui a scuola la dottoressa Bene in casa. È un progetto che è iniziato l'anno scorso, che ha avuto come protagonista un alunno affetto da sindrome di autismo, con cui ci siamo relazionati e abbiamo collaborato intensamente con la famiglia, grazie anche alla professionalità e alla passione della professoressa che l'ha preso in carico, la professoressa Palmese. Iniziato l'anno scorso, il percorso ha già dato risultati apprezzabili. Ci ha dato proprio la spinta a continuare con rinnovato entusiasmo e con professionalità, ma questo non l'abbiamo notato solo noi, persone di scuola, operatori scolastici, ma anche il feedback che ci è venuto dalla famiglia. Ed in proposito, la testimonianza della mamma. I risultati sono tantissimi e a questo progetto non soltanto ringraziare la scuola, la professoressa e tutti quanti, perché è una cosa bellissima che stanno facendo con Luigi, che ha migliorato tanto. Tutte queste cose che prima non aveva. Oggi in pratica è iniziata la seconda fase del progetto, quella della valutazione funzionale. Io quindi mi occupo della programmazione e della valutazione funzionale, quindi stamattina sono venuta per fare una supervisione e valutare un pochettino i progressi del ragazzo. La programmazione quindi si occuperà non soltanto dell'inclusione, ma anche di aumentare le abilità socialmente adattive del ragazzo, quindi dell'autonomia, della capacità di passare il tempo libero e di autointrattenersi. Questo lavoro dovrà produrre dei risultati concreti. Semplicemente quello di dare la possibilità a questi ragazzi di poter vivere nella maniera più adeguata possibile, quindi aumentare tutti i repertori che sono socialmente adatti, quindi non emettere comportamenti disfunzionali, capacità di poter comunicare i propri bisogni, capacità di poter relazionarsi comunque col contesto.